Farsalia Marco Anneo Lucano 39-65 d.C. Poeta latino In Farsalia dice Il timore di un male futuro spesso mise molti in gravissimi pericoli Commento Il timore tenace di un pericolo per legge divina lavora a che il pericolo si materializzi Perché? Perché il timore tenace scopre la mia necessità di vivere l'esperienza che quel pericolo rappresenta